Questo fa parte della missione segreta? Forse dovremmo aspettare che la mamma torna a casa? Su, su, ragazzi! Confidavo che avreste fatto parte della missione! Non vorrete deludermi adesso! No, padre! Grande! Fidatevi di me, ragazzi! Ci divertiremo un sacco! Ahahah! Bel lancio! Beccati questa, perdente! Scusa, zio! Ragazzi! Ziastro! Feanor, bastardo!